Ciao a tutti, panzerotti del suo vostro e bentornati sul mio canale didattico Diago ti spiego nella sezione della matematica. In questo video dedicato alla geometria analitica vedremo come calcolare l'equazione del piano passante per tre punti noti. Per affrontare questa lezione dovrai soltanto saper risolvere un sistema di equazioni. Ti farò vedere però in quale modo risolverlo. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo immediatamente oppure segui le mie mini lezioni su Instagram. Vediamo che capisci qualcosa, va? Cominciamo con questo nuovo video di geometria analitica nello spazio in cui andremo a vedere come ricavare l'equazione di un piano passante per tre punti noti. Vi ricordo che siamo nello spazio e quindi dobbiamo andare a cercare l'equazione di un piano nella forma ax più by più cz più d uguale a zero. Siano quindi note le coordinate dei punti a, b e c per il quale questo piano passa. Come possiamo fare a trovare l'equazione del piano? È davvero abbastanza semplice dal punto di vista algebrico ma dobbiamo utilizzare un piccolo trucchetto per risolvere il sistema di tre equazioni in tre incognite che stiamo per andare a scrivere. È chiaro infatti che per risolvere questo esercizio mi basta andare a prendere le coordinate del punto a, del punto b e del punto c e ficcarle all'interno dell'equazione del piano. Mi raccomando al posto della x, della y e della z. Non mi fate vedere che sostituite al posto di a, b e c e poi dentro quel sistema vi trovate a, b, c, x, y, z. Vi trovate otto lettere anche se al massimo sono sette. Inseriamo quindi le coordinate di questi punti all'interno del piano che chiameremo py e vediamo che cosa viene fuori. Per quanto riguarda la prima equazione avremo a meno c più d. La seconda mi darà 2b più c più d uguale a zero. La terza mi darà meno a più 2b più d uguale a zero. Adesso, ragazzi, ci dobbiamo accorgere di un piccolo problema. Abbiamo scritto un sistema di tre equazioni, ma le incognite non sono tre, sono quattro. Quindi questo che cosa vuol dire? Che abbiamo a che fare con un sistema in cui le incognite sono sovrabbondanti rispetto al numero di equazioni. Come facciamo a risolvere un sistema di questo tipo? Noi sappiamo risolvere sistemi di n equazioni in n incognite, banalmente utilizzando per esempio la sostituzione. Se fosse un 3x3 potremmo utilizzare il metodo di Kramer. Qui però abbiamo tre equazioni in quattro incognite e non ci possiamo inventare assolutamente niente se non utilizzare un piccolo trucchetto algebrico, che è il seguente. Cerchiamo di scrivere tre di quelle incognite, tutte quante in funzione della quarta incognita. Siamo abbastanza liberi sulla scelta di quale incognita utilizzare per scrivere tutte le altre incognite. Possiamo scrivere per esempio A, B e C in funzione di D, ma potremmo anche operare una scelta differente. In genere quello che si fa è proprio scrivere A, B e C in funzione di D, ma vi ripeto è assolutamente analogo. Vediamo come possiamo fare quindi. Dalla prima equazione ci andiamo a ricavare C, per esempio, che sarà uguale a A più D. Una volta che abbiamo trovato C andiamo a scrivere A più D al posto di tutte le C che trovo nelle altre equazioni. Quindi per esempio, presa la seconda equazione, posso scrivere 2B più A più D più D uguale 0. Per quanto riguarda la terza, per il momento me la ricopio così com'è. Andiamo avanti adesso e per esempio dalla seconda mi vado a ricavare il valore di A, perché mi è molto comodo. A quanto sarà uguale A? Sarò ovviamente uguale a meno 2B meno 2D. E a questo punto questa A me la vado a reinserire sia nella prima equazione che nella terza equazione. Quindi dalla prima che cosa ottengo? Che C è uguale a meno 2B meno 2D più D. Mentre dalla terza che cosa ottengo? Cambiando disegno ottengo 2B più 2D più di nuovo 2B più D uguale 0. Diamo un attimo una sistemata al tutto, cioè facciamo i conti e otteniamo questo piccolissimo sistema. A questo punto vedete che noi dall'ultima equazione possiamo andare a ricavarci il valore di B. Questo valore di B sarà ovviamente funzione di B, perché non sappiamo quanto è il valore da assegnare al parametro D. Quindi da qui ci ricaviamo che B è uguale a meno 3 quarti D. E a questo punto torniamo indietro a sostituire. Quindi possiamo dire che A sarà uguale a meno 3 quarti D per meno 2, quindi 3 mezzi D meno 2D. E C sarà uguale a, per lo stesso motivo, 3 mezzi D meno D. Cosa ho ottenuto quindi? Ho ottenuto che B è uguale a meno 3 quarti D. C è uguale a un mezzo D, mentre A è uguale a meno un mezzo D. E vedete che ho ottenuto proprio quello che vi dicevo all'inizio, cioè ho scritto 3 incognite A, B e C, tutte quante in funzione della nostra quarta incognita D. E a questo punto mi direte, vabbè, ma a che me serve? Adesso semplicemente prenderò questa quantità, questa quantità e questa quantità e le vado a sostituire al posto di A, B e C all'interno dell'equazione del piano. Effettuando questa sostituzione vedete che ottengo un'equazione di questo tipo, meno un mezzo D per X meno tre quarti DY più un mezzo D per Z più D uguale a 0. E vedete che in questa equazione tutti i termini che la compongono hanno in comune il fatto di avere D e quindi capite bene che D può essere raccolto. Effettuando questo raccoglimento ottengo quindi meno un mezzo X meno tre quarti Y più un mezzo Z più 1. Mi raccomando non mi scrivete 0 uguale a 0. E a questo punto posso dividere a sinistra e a destra per D ed eliminare l'ultima incognita che mi dava fastidio. E che cosa ho ottenuto in questo modo? Non ho ottenuto nient'altro che l'equazione del mio piano π che posso sistemare per esempio andando a fare il minimo comune multiplo che sarà 4 e poi togliendo il denominatore a destra e a sinistra. Ecco fatto ragazzi. Questo è come ricavare l'equazione del piano passante per tre punti quando avete un sistema di equazioni sovrabbondante cioè avete più incognite che equazioni. Utilizzate questo trucchetto algebrico come volete. Vi ripeto che potete scegliere di trovare per esempio AB e D in funzione di C piuttosto che BC e D in funzione di A. Fate veramente come volete. La cosa importante è che utilizzate bene il metodo. Anche con questo video abbiamo concluso. Non vi perdete i prossimi video sempre sulla geometria analitica nello spazio. Grazie per avermi seguito anche oggi. Alla prossima!